ecco lo vediamo stefano, azioni, ciao stefi e te che porta, se la convulsione è patica vuoi salutare a babbo? a babbo! a babbo! ma l'hai visto cosa hai fatto? vuoi salutare a babbo? a me! a chi l'hai detto? a me o a babbo? a te? a me! ci devi pensare ma sono rosa chi è questo? vuoi salutare a chi? ma sono rosa sono tutti i bianchi oggi iiii uuuu mi serve gente mi serve gente mi serve gente mi serve gente ma dopo devo fare una foto sto facendo un filmino e cioè, vabbè, è lui oggi è ultimo signor sindaco, tutto a posto e uno lo voglio regalare al sindaco vero eh? Fabio, Fabio è il sindaco di Arbus per me e Antonio è il vicesindaco vero? assessore assessore, ecco assessora, lei è l'assessora la moglie del vice sindaco ah, la moglie, siete cogliati siete eh, manco che anche l'au, sei sei furbo, sei e questo è il nipote del sindaco eccolo qua una bella motocicina